Giovanni Toppi, un punto di vista autorevole su questo Sanremo, un giudizio? È un bel Sanremo, è un Sanremo sobrio e ricco, che sembra uno simbolo in italiano, ma non è così. Ha saputo dare emozioni potenti, sia positive nel sorriso, sia talvolta anche difficili, come la testimonianza del ragazzo malato di Isla, come il monologo sulla violenza delle donne, però ha saputo farlo con equilibrio e questo bisogna dar merito a chi l'ha organizzato e poi gli ascolti lo stanno premiando, per la prima volta è diffuso in tutta la città e quindi per la prima volta anche tante persone che non entrano all'Ariston ne possono fruire e godere ed è un grande pancoscenico per la mia regione, quindi Sanremo è straordinario, viva Sanremo, che compie 70 anni, ma non li mostro. E viva Women's Times, ciao!